signore e signori buonasera attendendo la riapertura della nuova stagione teatrale verso il teatro il piccolissimo in diretta dal salone delle feste l'associazione teatrale andronauti gtr gruppo teatro ricerca è lieta di presentarvi buon natale 2020 una raccolta dei migliori auguri di buon natale che l'associazione regala al proprio pubblico e tutti gli altri a fashionados a conclusione di questo anno che volge al termine augurando a tutti voi una buona visione unisco a questa splendida iniziativa il mio più sentito augurio che possiate trascorrere questo natale nel modo più sereno possibile e a seguire un buon proseguimento delle feste arrivederci sto avanti il prossimo auguri buon natale grazie claudia e grazie soprattutto ai ragazzi che l'hanno portata via ora diamo la linea al teatro dell'opera di fransburgo dove ci attende il supervision christmas concert a voi tutti auguro oh happy day oh happy day oh happy day oh happy day when jesus was when jesus was when jesus was when jesus was oh happy day happy day oh happy day oh happy day happy day happy day happy day happy day ciao volevamo augurarvi a tutti buone feste buon natale ciao ciao io auguro a tutti di passare delle feste tranquilli va bene pochi ma buoni e ma soprattutto auguro a tutti l'anno prossimo di che ci sia una bella ripresa per tutti in questo anno di come sospeso in questo anno di riflessione mi auguro che l'anno prossimo invece si possa ritornare a riabbracciarci a toccarsi con le mani perché soprattutto nel teatro è molto importante quindi io auguro a tutti un anno pieno di abbracci ciao auguri grazie grazie Mirella va bene tanti cari abbracci a voi sospesi sospesi mi raccomando adesso ci colleghiamo niente meno che con Betlemme dove abbiamo un gradito ospite a voi Betlemme avanti un altro melchio qualcuno te lo deve pur dire 2020 la mirra la mirra non abbiamo mai capito a cosa serva io ti avviso 7 gennaio questi lo riciclano come regalo forza vai quest'anno sushi sushi porto un bel piattino di sushi e vedrai che saranno tutti contenti forza come on vai e torna e noi torneremo nelle piazze e nei teatri ad abbracciarci e a respirare aria buona buone feste grazie Roberta e in effetti tra mirra e sushi non saprei cosa scegliere in effetti allora adesso ci colleghiamo torniamo in Italia e ci colleghiamo con una streggiatissima Palermo a voi ciao a tutti volevo farvi davvero tanti auguri di buone feste per questo periodo nel quale abbiamo tutti bisogno di avere più affetto più contatto più abbracci più amore più fatica fatica del lavoro praticamente tutte quelle cose che accadono quando siamo sul palco sono sicuro che questo accadrà quanto prima nel frattempo gioiamo ricordandoci le cose belle che abbiamo fatto in passato e teniamo dentro le energie per quando tornerà di nuovo quel momento auguri di buon Natale allora Sergio da Palermo mi ha fatto un bellissimo discorso di fine anno mi ricorda qualcosa va bene andiamo in conclusione andiamo in conclusione ora con dei rapidi e veloci auguri rapidi e veloci mi raccomando eh rapidi e veloci a voi la linea ragazze buone feste a tutti buon Natale ciao a tutti finalmente Natale e potevo lasciarti sola ma assolutamente no sister ciao auguri a tutti buon Natale ciao buon Natale a tutti e viva il teatro viva il teatro auguri Andronauti auguri a tutti buon Natale e tanti auguri buon Natale ciao siamo alla fine spero che vi siate divertiti un caloroso davvero sentito augurio di buon Natale e di un 2021 che porti definitivamente la risoluzione a questo problema forza ragazzi e ciao da tutta Andronauti gruppo teatro ricerca ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti